Comunicare bene per lavorare meglio. Questo è il tema della giornata di studi rivolta ai dipendenti pubblici, in particolare a quelli dei servizi sanitari, che è stata promossa al Teatro Cesar di Fornaci di Barga dal sindacato Funzione Pubblica della UIL. Il corso si poneva l'obiettivo di fornire gli strumenti utili per migliorare la comunicazione non solo tra i colleghi di lavoro, ma anche e soprattutto con i cittadini, in particolare per i dipendenti che si trovano a lavorare agli sportelli, a diretto contatto con l'utenza. Alla giornata ha partecipato anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Lucca, Umberto Quiriconi, e il corso vero e proprio è stato ottenuto dalla mediatrice Raffaella Guidi. Il segretario territoriale del sindacato di categoria, Pietro Casciani, sottolinea in particolare lo spirito con il quale i dipendenti pubblici hanno accolto questa iniziativa. C'è stata una grande partecipazione, operatori sanitari, dipendenti pubblici, che partecipano a questo evento fuori dal loro orario di lavoro, quindi su un tema che riguarda l'organizzazione del lavoro. E quindi, diciamolo, non c'è solo il Comune di Sanremo, ma ci sono anche iniziative serie di personale che partecipa per migliorare il proprio servizio nei confronti del cittadino.